Ciao, sono Randel, sono andato in Estonia, però all'età di sei anni sono andato a vivere in Italia. Ecco, come accennavo precedentemente, a me piace fare molto nuove esperienze e conoscere nuove persone, quindi penso che questo tipo di lavoro mi permette, sperando, di viaggiare molto, conoscere gente nuova, fare nuove esperienze. E la mia decisione è ricaduta su questa agenzia perché sono coloro che più si sono sbattuti per me, sono stati quelli più che hanno cercato di fare i primi passi, di cercare dei contatti e quelli che secondo me sono sbattuti di più rispetto ad altri. Sia magari un'agenzia più piccola rispetto alle altre, penso sia più quasi un punto di forza che un punto di debolezza, poiché magari avendo meno persone il rapporto è più umano, non è semplicemente tu persona, oggetto, vai lì, perché devi andare lì, ma si crea più un rapporto umano, personale.